Valerio Longo, neoconsigliere provinciale, gli auguri di Battipaglia 1929. Allora Valerio Longo, a parte un breve passaggio su questa tua nuova nomina, questa entrata nel Consiglio provinciale, vediamo poi di affrontare anche i temi del bilancio e poi c'è un aspetto particolare su cui ti soffermerai. Ovviamente porterò le istanze del nostro territorio che sono quelle risapute sulle quali mi sto battendo da un poco di tempo a questa parte. Innanzitutto la crisi relativa al ciclo dei rifiuti che ha visto in maniera scientifica da qualche anno a questa parte l'utilizzo del territorio di Battipaglia quale punto di riferimento finale del ciclo stesso di rifiuti. La cittadinanza soffre, voglio ricordare, ancora da cinque anni a questa parte per i miasmi dovuti in gran parte al sito ricompostaggio di Eboli per una presenza abnorme di pubblico e privato che trattano rifiuti. Veniamo alle cose di casa nostra, c'è un argomento su cui vuoi parlare? Abbiamo approvato di recente il bilancio, glielo ho ricordato anche in quell'occasione, in Consiglio Comunale sul bilancio, ha tradito gli elettori, ha tradito la città per quanto riguarda il programma elettorale che è stato posto nel cassetto dal giorno dopo della campagna elettorale sostanzialmente, quando invece doveva essere la nostra magna carta, la nostra Costituzione, la nostra Bibbia nei cinque anni di Consiglio Comunale, di amministrazione. E poi ha tradito il patto politico preso con il centrodestra, in primis con Forza Italia, che è stato determinante per la sua elezione. E questo glielo ho ricordato in Consiglio Comunale. Alla luce di queste considerazioni il mio voto contrario al bilancio e perché i risultati di questa amministrazione purtroppo sono davanti agli occhi di tutti. E sui fondi europei perduti quasi 100.000 euro? Lo stesso ex assessore Monica Giuliano aveva detto all'amministrazione, aveva fatto presente al sindaco, che si poteva impegnare una parte di quel fondo, parliamo di oltre 130.000 euro, oltre che che erano stati stanziati al ministero per l'attività estiva, i centri estivi, a favore dei più piccoli, anche per l'acquisto di giostre, diciamo, di attrezzature per l'aspetto ludico da mettere nelle tante ville comunali di cui dispone la città. Ovviamente per fare questo bisogna attrezzarsi, bisogna lavorare. Perciò parlo di sciatteria. Ed è un peccato perdere centinaia di migliaia di euro di finanziamenti statali ed europei a causa della sciatteria.